Avere avuto la fortuna di conoscere varie persone che sono diventate molti amici, Virginio, Umbretta, Borghese, Alfio, la moglie, Elena. Dunque, come dicevamo Umbretta, adesso facciamo parte quasi di una famiglia. E questo incoraggia perché da loro vengono a servire suggerimenti positivi e mi dicono spesso continuo la tua strada perché è la strada che piace. E quindi ci credo perché quando vedete un personaggio come Umbretta che sta vicino a me, eccola qua, ha questo sapone, è una bomba, è una statua. No, no, è vero. E il pen che porta anche a questo. No, no, è vero. Quanto c'è l'affetto. Esatto. Dunque, qui in questa cadheria devo ringraziare particolarmente Massimo. Dico bene, Massimo? Gianni. Dande? No, no, no. Dande. No, Dande lo viene dopo. Gianni, bravo. Devo ringraziare Gianni. Ecco, io mi confondo sempre. Perché questa mostra al Circeo, al Centro Storico, mi ha portato bene. Quindi ho presentato questi Cristi così ponderosi, così belli. E questi hanno suggerito, diciamo, il posto dove mi trovo oggi. Poi un altro ringraziamento speciale viene a Dante, dove l'altro giorno, rileggendo quello che mi scrive qua, mi dico, dico, porca miseria. Leggendo, dicevo, mi piaceva sentire il rumore delle macchine. Perché lui ha stato attento al, diciamo, al libricino che ha trattato, per la sera che abbiamo preso il caffè insieme. Poi, rileggendo quello che ha detto Dante qua, addirittura sentivo i rumori delle macchine, cioè la macchina della trebbia, la famosa macchina, lui dice, entrano delle fascine di crano per portare poi i sacchi, i sacchi di crano che stanno proprio ai piedi della trebbia. E il rumore, il cingolio dei rumori. Quindi ringrazio tutti, non posso fare i nomi perché sono tantissimi. La bellissima giovenetta che mi sta davanti, mi sta guardando, non ho portato il nome, che mi rimasta simpatico dal primo giorno. No, i nomi non... Anna Maria. Io, infatti, devo dire... Anna Maria, no, devo fare una premessa. Io insegno a Bruxelles, sono 25 anni, non riconosco i miei alunni. Mi dovete credere, mi chiamo tutti per colore. Azzurra, non so io, uva, signora turchese... Ma i geni sono così... Ma io i nomi... No, perché posso dire questo qualcosa, non mi ricordo come il nome. Va bene, dunque, ho finito e vi ringrazio tutti per la vostra presenza e speriamo vederci presto. Grazie. 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 Grazie.